Invece i servizi pubblici devono rimanere tali e devono primare le eccellenze. Io voglio ricordare che per un discorso di riorganizzazione di Careggi, per esempio, hanno deciso di chiudere il reparto di tossicologia. Ed è una cosa gravissima, perché il reparto di tossicologia di Careggi è un'eccellenza, è stata un'eccellenza, tra due anni avrebbe festeggiato cento anni di esistenza e questo reparto ha garantito una mortalità zero per problematiche tossicologiche negli ultimi 30 anni. Le mortalità dove il reparto di tossicologia non ci sono, non c'è il reparto di tossicologia, arrivano fino al 15-20%. E noi abbiamo avuto il coraggio, e dobbiamo assumerci questa responsabilità, di chiudere questo reparto.